Buongiorno ragazzi, buon modo di e bentornati incredibile sulla Suss Run con il nostro Suss incredibile nel mondo assurdo di Shadow of the Earthry. Sto registrando questo video nello stesso giorno di registrazione del video precedente e sono ancora traumatizzato da quel Red Phantom infame, incredibile, piano di questo episodio e cercate di andare avanti in questo Legacy Dungeon incredibile, perché? Parliamoci chiaro. Non per farmi auto-spoiler incredibile, però purtroppo ho visto il primo trailer di Elder Ring come tutti voi, abbiamo parlato con l'anziana con le corna nell'altro episodio, abbiamo visto la testa di quel coso in quella stanza, 99 su 100, il boss di questo Legacy Dungeon, tra l'altro lei ha detto la bestia del fulmine che ti punirà, secondo me è la bosta di quei due tizi con il costume cinese che si vedono, che combattono in stile come un drago cinese incredibile, che ti prendono, ti afferrano e ti fanno un mazzo così ragazzi. Quello secondo me è il boss di questo Legacy Dungeon incredibile, tra l'altro con le corna, con il giolo, mesmer, marica, tutte queste cose belle, secondo me avremo un grosso nemico da affrontare, perché di solito nei Legacy Dungeon ci sta sempre un boss minore e poi il boss boss, però qui mi dà l'idea che c'è subito il boss boss ragazzi, ripeto, potrei star prendendo un mega crank incredibile, Shadow of the Herschel, stupiscimi incredibile, ragazzi, 3, 2, 1, vai! Avevamo letto tutte le cosine belle, vero? Avevo droppato dal Cavaliere Puri Guanti, non avevamo droppato le gambe? Vabbè, non dicono niente, però abbiamo due pezzi del set di questi Cavalieri Sus, ragazzi, 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 allora fammi pensare, abbiamo aperto il portone grosso sotto, c'è un'altra porta chiusa, c'è la porta delle fogne che è chiusa e questa l'abbiamo aperta, quindi abbiamo ancora due porte, quindi un altro possibile shortcut e un altro luogo che sarà nascosto, ci si arriverà da altre parti incredibili, ragazzi, allora voglio andare brevemente da questa parte incredibile, tanto per ricontrollare, però sono abbastanza convinto che qui c'era soltanto l'invasione del Red Ventum, non mi pare ci siano altre sorprese, a parte questo albero Sus che è abbastanza inquietante, no, vedi, qua è tutto chiuso, ragazzi, qui c'è solo l'invasione di quel tizio, allora parliamo un attimo di quel tizio, quel tizio era un soldato di Mesmer, a quanto pare, ci ha droppato con un talismano Sus che a quanto pare aumenta il danno tuo se uccidi più nemici, che potrebbe essere molto figo, però mi dà l'idea che lo puoi usare, ci sono tante ordi di nemici, no, che ne so, ammazzi 20 scorpioni con un colpo e quello scorpione grosso lo sciotti, una cosa del genere, no? A parte questo qui non c'è niente, allora, adesso noi dobbiamo andare, se mi ricordo bene, la strada dove c'era il tizio con lo spadone, che lo chiameremo il tizio con lo spadone Sus, e a parte quello aveva aperto uno shortcut, che vi stavo dicendo poco fa, e niente ragazzi, dobbiamo andare qui da quella parte, va bene. Per il resto, pensa, abbiamo fatto un'esplorazione abbastanza spicy, qui c'è il tizio con lo spadone che assolutamente non vorrei riaffrontare mai nella vita ragazzi, perché è duro, duro, duro. Noi dobbiamo andare da questa parte incredibile. Oh, area nuova. Questi nemici mi fanno ridere perché sono di un fastidioso che non aveva idea. Tra l'altro avevamo letto che quell'affare di Michela diceva qui ho lasciato il mio braccio smancino, quindi Sus. Ok, qui c'è un'altra di queste summon incredibili. No, grande. Ah, mi sono parato dal colpo Sus. Peccato. Eccomo. Diviniamo questo. Non l'abbiamo mai droppato noi l'incantesimo Sus di questi cosi, vero? Tu guarda questi chierici Sus. No, no, non lo farai. Eccolo. Eccolo. Prendiamo, cenere. Che poi questo tizio certe volte è senza testa, certe volte è con la testa. Un po' Sus questa cosa, però vabbè. Ah, qui c'è una statua di marica. Non promette bene. Però qui noi siamo sopra la stanza degli scorpioni, va bene. Stiamo salendo la stanza degli scorpioni, va bene. Ok, non credo che gli scorpioni mi attacchino. Incredibile. Oh, ma guarda chi è tornato. Più incavolato che mai, ragazzi. Stammi lontano alla velocità della luce, veramente. Mamma mia, quanto godo, cavolo. Godo. Impara a fare approbazie e poi attaccami. Mamma mia, quanto godo. Ecco, va a te diverti con gli scorpioni, va. Te le tue approbazie Sus. Ma tu guarda questo. Ma piantala, vai giù. Stay down. Mamma mia. Ahahahah. Che soddisfazione. Ma che soddisfazione, ragazzi. Non potete capire. Facciata del teatro. Eh, ragazzi, siamo giunti. Mantorosso Freya. Ragazzi, mi sa che qua c'è la boss fight. Allora, io sono emozionato e allo stesso tempo un po' terrorizzato, ragazzi. Da una parte ho 112.000 anime, ve lo dico sinceramente. C'è una parte di me che vorrebbe fare un livellino. Ragazzi, dato che io sono veramente sottolivellato e perdere le mie anime non mi va proprio, ragazzi. Ci vediamo tra pochissimo. Io farmo 40.000 anime al volo da Mog. Ci rivediamo tra poco qua e affrontiamo quello che sarà il boss di questo Legacy d'Angelo. Non vedo l'ora. A tra poco. Eccoci qua, ragazzi. Ho portato Sus a livello 166, portando ben 47 a destrezza. Allora, prima di fare questo, mi arriva in mente una cosa. Ma se io vado da questo tizio e gli dico che ho trovato un'altra impronta di Michela, lui mi dice qualche cosa, perché lui voleva saperle. Parla della croce alla torre. Come sospettavo, Michela Gentile ha visitato i luoghi che reggono la torre e appare deciso a spogliarsi completamente delle sue carni. Senza dubbio cerca l'ingresso della torre delle ombre. Stiamo per affrontare la prima vera sfida dell'espansione, ragazzi. Io ve lo dico. Prima volta ci andiamo noi, Tiche e questa. Vediamo come va, ragazzi. Se è infattibile non l'evochiamo più, perché mi ipotizzo ora al doppio della vita. Però proviamoci, ragazzi. Godiamoci questa esperienza in blind. Voglio vedere come si comporta anche lei. Vai. Evochiamo la nostra amica Mantorosso Freglia. Abbiamo Tiche. ragazzi. Prima boss fight dell'espansione, ragazzi. Io ho il terrore che sia di una potenza questa creatura indescribile. Sono troppo curioso di vedere poi come combatte lei, eh. Andiamo, cara, vai. Stiamo per affrontare qualcosa di terrificante, ragazzi. Forse è l'ultimo sopravvissuto dall'attacco di Mesmer. Eccolo. Assurdo. Ragazzi, voglio godermi questa cinematic. È proprio lui. Cornuta bestia. Loro dell'alta sfera. Ma è la vecchia che gli sta parlando. Non è che l'ha evocato lei. Elevate. Wow. Chissà se uccidi la vecchia cambia qualche cosa nel dialogo. Forse non puoi affrontarlo. Vabbè, non credo. Però noi l'abbiamo lasciata viva, la vecchia. Apposta per vedere cosa succedeva se ammazzavano sto coso. Danza e pirouetta. Che spettacolo, ragazzi. Quindi lei lo sveglia. Quindi lui è vivo. È l'ultimo rimasto. O forse era morto ed è tornato. L'autantagonia è la meretrice. Mi ha ricordato il boss di Dark Souls 3 che urlava nel DLC di Ariandel. Ragazzi, mamma mia. Sono terrorizzato da questa creatura. Evochiamo Tiger. Ah, va bene. C'è la morte con me? Ok. Andiamo di marcescenza. Ipotizzo? Ok. Ok. Sì, gliel'abbiamo messa. Ok. Wow. Ok, fase 2. Noi ne abbiamo niente. Noi ne abbiamo un cazzo. Mamma mia danno. Sono spaventato. Ok. Ghiaccio su se? Forse? Wow. È del ghiaccio pure lui? Wow. È del ghiaccio pure lui? Wow. È del ghiaccio pure lui? Wow. Che figata non me l'aspettavo come fosse pure? Ghiaccio elettro, praticamente. È un pal. Wow. Wow. Primo try, però, ok, avevamo sia lei che Diche. Wow. È stato fichissimo, ragazzi. Mi ha mandato solo il 90 mila, mi ha mandato niente. Ragazzi, perché ho paura che questo non sia il boss finale di questo dungeon? Allora, voi mi direte, te lo sei gustato poco. Me lo sono gustato benissimo, ragazzi, perché i danni che mi faceva erano forti, ragazzi. Fichissimo che ha due elementi, elettro e ghiaccio. Quindi ha tre fasi. Fase iniziale, fase elettro, che ti lancia i fulmi e ti fai i raggetti sus. Poi pure il ghiaccio. Fichissimo. Musica fichissima. Adoro i movimenti di quando danza, ragazzi. Fichissimo. Vi dico solo questo. Se fossi stato con un personaggio effettivamente più forte e più alto di livello, forse me lo sarei combattuto in maniera più gustosa. Però, come prima volta, mi sono divertito. È stato divertente. Diche è stata straordinaria, anche se ha preso delle mazzate importanti. Marcessenza top. Lei, sono contento che viva. Se lo sbaglio, lei l'ha stannato tipo due o tre volte con l'attacco. Questo qui lei usava. Questa cenere qua l'ha fregato due o tre volte. Wow. Però mi ha dato solo 90 mila anni, ragazzi. Non mi ha dato niente. E ha droppato questo. Un drop leggendario. Testa di belva divina. Mi ero spaventato sinceramente per il danno, ragazzi. Ve lo dico sinceramente. Questo era il classico try che o andava bene o ci morivo 20 volte. Ve lo dico sinceramente. Quindi sono contento. Sono contento. Lo ammetto. Però bello. Veramente bello, 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 bello. Teatro della belva divina. Allora, leggiamo le cose e poi andiamo a parlare con la vecchia. Immediatamente. Allora, leggiamo subito. Copri il capo rituale a forma di testa di una belva divina. Usato per eseguire la danza leonina. Usato tra i migliori dei custodi. Ahimè non risponde più alla sincera preghiera dell'anziana donna. L'invocazione divina accresce l'intensità delle tempeste, oltre a forza e destrezza, ma riduce l'effetto ristoratore delle ampolle di lacrima. Cioè, aumenta il danno da fulmine, ma diminuisce l'effetto delle ampolle. Questo copo di capo compromette anche la concentrazione. Come è fatto? Fammelo vedere. Wow! È fichissimo! È inquietantissimo in una maniera incredibile, ragazzi. Ci puoi fare delle robe in PvP che mi metti paura. Però puoi farci tipo un costume assurdo, ti metti questo e il set dei tizi e fai una roba assurda. Wow! Veramente figo. È lontano da Susse, però molto 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 figo. Rimembranza del leone danzante. Il potere che racchiude può essere sbloccato dall'eggita in alternativa, può essere usato per ottenere una grande quantità di rune. Quando l'esercito di imparatore assaltò la torre, il rituale della danza leonina fu adattato a scopi marziali, dando una nuova accezione alla sua furia, alla sua leggiadria, alla sua bellezza. Quindi mi sta facendo capire che il combattimento che hanno avuto con Mesmer, loro non sono nati per il combattimento, ma ci sono diventate per difendersi da Mesmer. Fichissimo! Veramente fichissimo, ragazzi. Si va avanti. Ah, si chiama Meggera della Rado del Corro. Torniamo subito da lei. Allora, signorina, hai qualcosa da dirmi? Quindi la Belva era morta, l'ha rievocata lei, o forse dormiva. Questo non l'ho... non l'ho capito. Perché sembra quasi che lei l'abbia proprio evocata. Ah, è sofferente. Non parla più. Forse ha usato il suo ultimo potere per evocare la Belva, ma la Belva adesso è morta, l'abbiamo sconfitta, e lei non ha più energia. Continua a volerla lasciare in vita, ragazzi, non la voglio eliminare. Praticamente è l'elmo questo qua. Se invece torniamo un attimo qui e parliamo con la tipa che abbiamo evocato, che ci dice? Scusami. È stata una battaglia memorabile. Mi rincuora l'idea di avere un rinforzo tra noi, eletti della chiamata. Chiedi dei danni all'elmo. Ah, lei si è fatta male, Corella. No, ho capito l'elmo che abbiamo troppato da quella. Tempo fa, nelle paludi di Ionia, sono caduta vittima della marcescenza scarlata. Cazzo. Immobilizzata e preta alle febbri e ai veloci dolori, erano ormai disegnata la morte. Corella. Tipo un minisenter. Quando tutti mi avevano abbandonato da solo, il gentil Michela, nella sua magnabilità, è venuto a cercarmi. La mia piaga era gonfe e pudre ed era sfida. Un odore pungente. L'ha salvata lui. Wow. Quindi Michela l'ha salvata. Tra l'altro ha uno spadone che assomiglia tantissimo a quello di Radana. Chiedi dell'altro uomo? Eh, ma gliel'avevamo già chiesto, no? Ti chiedi perché il semiterno burbero si tenga a distanza. È un araldo del corno della torre. Posso superesumere che combatta per le sue ragioni e reghi i suoi fratelli. Quindi abbiamo eliminato i suoi compagni, ma le sue questioni non sono affar nostro. Anche lui è stato ammagliato da Michela il Gentile, ammagliato, eh? E' condotto qui. E questo ci rende alleati. Anche se riusciamo a diseperire il seguito del suo passato. Dubito che la nostra intrusione potrebbe... Allora, andiamo un attimo alla tavola rotonda a vedere cosa possiamo creare con l'anima di questo affare. Subito. Aspetta, ragazzi. Sembra la versione del pestone 2.0? Belva Divina Furente. Amorito Raffiurente è la danza folla e concitata della Divina Belva, condotta alla festa della torre. Aumenta la potenza delle tempeste. Io non capisco questa cosa delle tempeste, ragazzi, perché pure Elmo aumenta le tempeste, ma le tempeste sono il potere dei fulmini o è una cosa diversa? Le Belve Divine sono messaggeri del cielo, la loro furia riflette i tumulti celesti di cui le tempeste rappresentano l'apice. Cenere di guerra Pestone della Belva Divina, ragazzi. E' l'evoluzione del pestone. Cenere di guerra che fornisce l'armamento alla fida fredda la seguente abilità. Pessone della Belva Divina. Abilità che riproduce la fuoribonda danza della Belva Divina. Solleva una gamba e calpessa al suono con forza brutale, generando un'ondata di gelo che si propaga sul tutto il terreno. Può essere caricata per aumentare la potenza e la distanza. Usabile su tutti argomenti da mischia. Allora, loro hanno nerfato Pestone della Guerra originale perché avevano in mente di farne una persona più potenziata. Vedrete voi. Non lo compro, ragazzi. Magari queste cose le proviamo più avanti. Vorrei collezionare anime per poi comprare magari più avanti. Sus, ci devo pensare perché da una parte voglio capire prima che diavolo è questa cosa delle tempeste. Perché magari quel trinket è fortissimo, no? Però ammetto l'idea di usare il Pestone un po' mi attira, ragazzi, perché potrebbe essere un ritorno alle origini, se vogliamo. Quindi, sus. Intanto mi sono appena risolto che ha ancora il talismano della tartaruga. Vabbè, ok. Allora, ragazzi, andiamo avanti. Adesso abbiamo la Grazia che ci indica di andare da questa parte, eh. Andiamo, andiamo. Questi cosi combattevano contro Mesmer, poi Mesmer li ha impalati tutti, quindi lei era rimasta l'ultima, praticamente. Quindi era un costume mosso da due piccoli Mog, se vogliamo. Da due piccoli Margit. Non credo fosse una belva vera, erano due tizi con il costume. E qui c'è un ascensore. Saliamo ancora di più. Wow. Però perdonami, cosa mi dovrebbe far capire il fatto che Michela avesse scritto quella roba là del braccio sinistro? E qui c'è un altro portone. Che facciamo, come in Dark Souls 2? Nel finale della Sunken King, che erano due boss insieme? No, infatti, ok. No, ragazzi, io sono stupefatto dal fatto che io pensavo che quest'affare fosse il boss di questo posto, ma a quanto pare no. Quindi c'è qualcosa di peggio, e ci stanno chiedendo in tutti i modi di potenziare le nostre ceneri. E se va come va, io penso che Tiche verrà sterminata probabilmente la prossima volta, quindi ai ai ai. Ho adorata torre nell'ombra celata, svettata e spirale che pungola il cielo. Conducono alla divinità superiore, e nel divino concedi a noi la salvezza. Siamo proprio nella torre coperta, quindi siamo proprio in un punto sus. messaggio sulla torre delle ombre. Attenzione! Messaggio della cavaliera del lago Leda, la diva che ci ha fatto entrare nelle espansioni, indirizzato a chi segue le tracce di Michela. Il varco delle divinità giace nella torre sigillata dalle ombre. Quella deve essere sicuramente la meta del pellegrinaggio di Michela. Non siamo empiri, ma dobbiamo trovare la via che ci condurrà lì. Seguirò le croci verso est. Quindi mi stai facendo capire che io qui non ci posso andare. Che succede se Brembo esamina? Mi dirà che non posso fare niente, spero, vero? Sigillato e nascosto nell'ombra. Wow, addirittura. Che infatti, vedi, qui c'è la parte di oscurità. E Leda ci ha detto di andare verso est, quindi ipotizzo da quest'altra parte, vero? Comunque ragazzi, boss fight veramente bella. Gran ponte sull'Ellac. Che poi tra l'altro possiamo andare anche sotto, no? Tipo? No, sotto c'era la baita che abbiamo trovato nell'altro episodio. Wow, bellissimo. Stiamo proprio addentrandoci verso l'albero, stavo dicendo. Qui c'è un tizio con la balestra, sus. Ragazzi. Dardo. Genere. Allora, ragazzi, qui sarà dura perché... Ah, è un accampamento gigante, ragazzi. Allora, qui adesso... Ah, amici, mi serve un punto sus per evocare la nostra durata. Tica! Tica, amore! Tica, amore! Tesoro, tica! Tica? Ok. 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 Buono. Ecco. No, 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 no. Ecco. Molto bene. Ok. Più tre. Oh, lascia stare tiche. Oh, come ti permette. Ecco. Lascia stare tiche. Allora, qui c'è un accampamento di dimensioni mastodontiche, ragazzi. Non me l'aspettavo. Allora. Ok. Abbiamo eliminato il tizio con la tromba. Ok. Grande. E quelle? Ma quelle non sono le tipe che stanno nella capitale? Le profumiere sus sono tornate. Ma dai, sono tornate le profumiere sus. Non ci posso credere. Devi morire. Devi morire. Tu sei troppo pericolosa. Allora, mi stanno facendo un mazzo così antiche. Però con calma le elimineremo tutte. Ok. Ok. Perfetto. Ok. Vamoci a una bevuta. Ok. Mazza, quattro profumiere, eh. Bottiglia di profumo scintifuoco. Va bene. Finiremo l'episodio, ragazzi, esplorando questo accampamento sus, eh. Allora, questa parte mi pare che abbiamo esplorato tutto. Ma qui c'è una grazia. Quindi sempre una marica senza testa. Qui apriamo il falò. Ah, è quella a fare? Ok. C'è soddisfazione eliminarli così, eh. Lo ammetto. Questo è un fuoco sus. Questo non è un tizio di quelli, tipo il primo che abbiamo ammazzato? Nell'episodio sus? Ah, guarda che infani. Ragazzi, il potere della lancia sus è quasi va a sentire. Grande. Bebi, bebi. È un altro di quelli con il martellone. Non abbiamo droppato niente. Va bene. Ok. Allora, lì c'erano le profumiere. Qui abbiamo esplorato... Ah, no, vedi? 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 Ricettato il cavaliere del fuoco. Ok. Vabbè ragazzi, io mi fermerei qua assolutamente a questo punto, in questo accampamento sus. Volendo abbiamo due strade da fare. Come si chiama questo posto? Fronte del castello. Quindi questo è un altro regasidaggio, non credo però, fammi vedere. Wow, sì invece. Quello è un gigante cariano? Lo scopriremo nel prossimo episodio ragazzi. Allora, cosa abbiamo trovato di Spice? Appunti sulle tecniche di creazione estirati dai cavaliere del fuoco, dal servizio di Mesmer l'imparatore. Descrivono l'arte del controllo del fuoco ai soldati in procinto di unirsi alla crociata. Ah, posso fare la spirale di fuoco? Corazza di soffa di soldato comune, incrossata da uno stato di furigie nero come l'anima di chi l'ha indossata. Ah, molto bella questa. Bottiglia di profumo resa arma di profumieri del regno dell'ombra. E attacchi rilasciano la polvere aromatica e produce scintille incandescenti. Con la crociata fu una terribile purazione e i profumieri non furono certo urlati come curatori. Ah, spingi via il nemico con un calcio alto, utile contro le... Ah, ma è un'arma? Ragazzi, hanno fatto diventare le boccette un'arma? Ma cosa mi stai dicendo? Ma è fichissimo! E scala su destrezza? Ah, no, ma cosa mi stai dicendo? No, vabbè, non posso metterla... Ragazzi, sono delle dual! Ma stiamo scherzando? Ma sono un furtodomago! No! Ragazzi, queste mi sa che le dovrò portare avanti per sus. Ma cosa mi stai dicendo? Hanno fatto delle dual profumiere! Ma è la roba più figa dell'universo! Ma che cosa mi stai dicendo? Aspetta! No, 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 aspetta! Queste le dobbiamo provare, ragazzi! Aspetta, 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 aspetta! Dammi queste cose! Dove sono? No, le devo provare! Ragazzi, ma che cosa mi stai dicendo? Sono fichissime! E l'L2? No, ragazzi, ma io impazzisco! Sono di una bellezza sconcertante! Perché io ho sempre avuto fascino per le armi dei profumieri! Però erano oggetti, capito? Guarda la danza di sus! E poi puoi fare così! No, vabbè, ragazzi, ma che mi stai dicendo? Sono fichissime! Di tutta l'espansione, ma adesso è l'unica arma che vi direi la vorrei potenziare adesso! Guarda quanto è bello sus danzante! E non consuma mana! No, vabbè, ragazzi! Sono innamorato da quest'arma! Sono veramente innamorato dalla bottiglia di profumo scintifuoco! E scala su destrezza! Ragazzi, sono ammagliato da questa cosa! Un episodio bellissimo! Sus, hai qualcosa da dire? Ragazzi, ma avete visto, Sus? Con i poteri dei profumieri, Sus! È ancora più bello fare le danze, Sus! E altro quell'ione che abbiamo eliminato in questo episodio! Bellissimo, Sus! Ragazzi, porteremo su quelle robe e le testeremo incredibili! Cioè, Sus! Danzatore del fuoco, Sus! È ancora più bello, Sus! Così, mamma mia, damn! Mamma mia, che episodio, ragazzi! Boss fight assurda! Damn! Ragazzi, con un Sus euforico! Direi che questa puntata incredibile può finire qua! Ragazzi, che cosa? Sono voi! Che ci vediamo al prossimo episodio incredibile e pazzesca assurdo! Oh! A presto!